di dino buzzati l'uovo voce di lorenzo pieri nel giardino della villa reale la croce viola internazionale organizzò una grande caccia all'uovo riservata ai bambini minori di 12 anni biglietto 20.000 lire le uova venivano nascoste sotto dei mucchi di fieno poi si dava il via e tutte le uova che un bambino riusciva a scovare erano sue uova di tutti i generi e dimensioni di cioccolata di metallo di cartone contenenti oggetti bellissimi gilda soso cameriera a ore ne sentì parlare in casa zernatta dove lavorava la signora zernatta vi avrebbe portato tutti e quattro i suoi bambini complessivamente 80.000 lire gilda soso 25 anni non bella ma neppure brutta piccola minuta faccino vispo piena di buona volontà ma pure di desideri repressi con una figlia di quattro anni anche graziosa creatura senza nome paterno ahimè pensò di portarci la sua bambina venuto il giorno mise alla sua antonella il sopravvitino nuovo e il cappello di feltro che la faceva assomigliare proprio alle bambine dei signori lei gilda invece assomigliare ad una signora non poteva aveva abiti troppo scalcinati fece però qualcosa di meglio con una specie di cuffietta si arrangiò pressappoco come una nurse e se proprio uno non stava ad esaminarla con l'anternino la si poteva benissimo scambiare per una bambinaia di lusso di quelle che hanno il diploma di ginevra o ne chatelle così andarono all'ingresso della villa reale e qui la gilda si fermò guardandosi intorno come se fosse una nurse che aspettava la sua padrona intanto arrivavano le macchine dei signori e scaricavano i bambini dei signori che andavano a fare la caccia all'uovo arrivò anche la signora zernatta con tutti i suoi quattro figlioli e la gilda si trasse in disparte per non farsi vedere sarebbe stata per la gilda fatica sprecata non era facile si verificasse quel momento di trambusto e confusione su cui lei faceva assegnamento per poter entrare gratis con la bambina la caccia all'uovo cominciava alle 3 alle 3 meno 5 arrivò una macchina tipo presidenziale era la moglie di un ministro importante coi suoi due bambini venuta apposta da roma allora il presidente i consiglieri e le patronesse della croce viola internazionale si precipitarono incontro alla moglie del ministro per fare gli onori e ci fu perfino sovrabbondante la desiderata confusione per cui la cameriera ore gilda camuffata da nurse entrò nel giardino con la sua bimba e le andava facendo le ultime raccomandazioni perché non si lasciasse mettere sotto dai bambini più grandi e più furbi di lei si vedevano sui prati sparsi irregolarmente mucchi di fieno grandi e piccoli a centinaia uno sarà stato almeno tre metri chissà che cosa c'era nascosto sotto magari niente il segnale venne dato da uno squillo di tromba cadde la cordicella che segnava il limite per la partenza e i bambini si lanciarono alla caccia con urla indescrivibili ma alla piccola antonella i bambini dei signori mettevano soggezione correva di qua e di là senza sapersi decidere e intanto gli altri frugavano nelle viscere dei mucchi di fieno già alcuni correvano dalla mamma stringendo fra le braccia gigantesche uova di cioccolata o di cartone vario pinto con dentro chissà quali sorprese finalmente anche antonella però affondando una manina nel fieno incontrò una superficie liscia e compatta a giudicare dalla curvatura doveva essere un uovo madornale pazza di felicità si mise a gridare l'ho trovato l'ho trovato e cercava di abbrancare l'uovo ma un ragazzo piombò a capofitto come fanno quelli del rugby e immediatamente antonella lo vide allontanarsi reggendo sulle braccia una specie di monumento e le faceva anche le boccacce per darle la baia come sono svelti i bambini alle tre era stato dato il via alle tre un quarto il bello e il buono era già stato tutto scazzato e la bambina della gilda a mani vuote si guardava intorno per cercare la mamma vestita da nurse certo sentiva una grande disperazione ma ad ogni costo piangere non voleva sarebbe stata una vergogna con tutti quei bambini che la potevano vedere ciascuno ormai aveva la sua preda chi poco e chi molto soltanto lei antonella niente di niente c'era una bambina bionda di 6 7 anni che stentava da sola a portare via tutto il ben di dio che aveva rastrellato antonella la guardava sbalordita non hai trovato niente tu le domandò la bambina bionda con garbo no io niente se vuoi prendi un uovo dei miei sì quale uno dei piccoli questo e vabbè prendilo grazie sai fece antonella già meravigliosamente consolata come ti chiami ignazia disse la biondina in quel momento intervenne una signora alta doveva essere la mamma di ignazia perché hai dato un uovo a questa bambina non glielo ho dato e lei che me l'ha preso rispose prontissima ignazia con la misteriosa perfidia dei bambini non è vero gridò antonella me lo ha dato lei era un bell'uovo di cartone lucido che si doveva aprire come una scatola forse c'era dentro un giocattolo o un servizio per bambola o un corredo per ricamo attratta dalla disputa si avvicinò una donna della croce viola tutta vestita di bianco avrà avuto una cinquantina d'anni che cosa succede belle bambine chiese sorridendo ma non era un sorriso simpatico non siete contente niente niente disse la mamma di ignazia questa marmocchia che non so nemmeno chi sia ha portato via un uovo alla mia bambina ma non importa per me lasciamoglielo pure su ignazia andiamo e si avviò con la bambina ma la patronessa non considerò chiuso l'incidente le hai portato via un uovo domandò ad antonella io no è lei che me l'ha dato ah così come ti chiami antonella antonella come antonella soso e tua mamma tua mamma dov'è in quel preciso momento antonella si accorse che sua mamma era presente immobile a una distanza di quattro metri assisteva alla scena è là disse la bambina e fece segno quella là chiese la dama sì ma non è la governante la gilda si fece allora avanti la mamma sono io la dama la squadrò perplessa scusi signora lei ha il biglietto le dispiacerebbe farmelo vedere non ho biglietto disse la gilda mettendosi al fianco di antonella l'ha perso no non l'ho mai avuto siete entrate di frodo allora allora la situazione cambia allora bambina quest'uovo non è tuo con fermezza le tolse dalle mani l'uovo è indegno disse favorite uscire la bambina rimase là impietrita e sul faccino stava scavato un tale dolore che il cielo del mondo intero cominciò ad ottenebrarsi allora mentre la patronessa se ne andava con l'uovo la gilda esplose le umiliazioni i patimenti le rabbie i compressi desideri di anni e anni furono più forti e si mise a urlare coprì la dama di parolacce orribili che cominciavano per p per b per t per s e per altre lettere dell'alfabeto c'era una quantità di gente signore eleganti della migliore società coi loro bimbi carichi di uova stupende qualcuna fuggì inorridita qualcuna si fermò a protestare è una vergogna è uno scandalo coi bambini che ascoltano arrestatela fuori fuori di qua donnaccia se non vuoi che ti denunci intimò la patronessa ma antonella scoppiò in un pianto terribile che avrebbe fatto muovere anche le pietre la gilda era ormai fuori di sé la vergogna il dispiacere le davano una energia immensa e irresistibile lei si vergogni portare via all'ovetto alla mia bambina che non ha mai niente sa che cos'è lei una carogna arrivarono due agenti e afferrarono la gilda per le mani fuori immediatamente fuori lei si divincolava lasciatemi lasciatemi figli di cani che non siete altro le furono sopra la guantarono da tutte le parti la trascinarono all'uscita adesso vieni con noi in questura in guardina ti passerà la voglia così impari a insultare le forze dell'ordine stentavano a tenerla benché fosse piccolina no no urlava la mia bambina la mia bambina lasciatemi vigliacchi la bambina le si era aggrappata alla gonna veniva sballottata qua e là nel tumulto tra i singhiozzi le uscivano le frenetiche invocazioni saranno stati dieci fra uomini e donne contro di lei è impazzita la camicia di forza alla stanteria il furgone cellulare era in arrivo aprirono lo sportello di peso la sollevarono da terra la dama della croce viola afferrò energicamente per una mano la bambina adesso tu vieni con me gliela farò dare io una lezione alla tua mamma nessuno si ricordò che in certi casi l'ingiustizia patita può sprigionare una potenza spaventosa per l'ultima volta lasciatemi urlò la gilda mentre tentavano di sarla sul furgone lasciatemi prima che vi ammazzi basta portatela via intimò la patronessa impegnata ad omare la bambina e allora crepa tu per prima maledetta fece la gilda dibattendosi più che mai oddio gemette la dama bianco vestita e si afflosciò esanime a terra e adesso tu che mi tieni le mani anche tu fece la cameriera ci fu un ingorgo di corpi poi dal furgone uno degli agenti rotolò giù senza vita un secondo subito dopo stramazzò appena la gilda gli ebbe detto una parolina si ritrassero con un oscuro terrore la mamma si trovò sola e intorno una folla che non usava più prese per mano antonella avanzò sicura largo largo da passare fecero ala non avevano coraggio di toccarla la seguirono però ad una ventina di metri mentre si allontanava intanto tra il fuggi fuggi della gente arrivavano camionette di rinforzi fra sirene di autoambulanze e di pompieri un vicequestore prese il comando delle operazioni si udì una voce le pompe i gas lacrimogeni la gilda si volse fieramente provateci se avete il coraggio era una mamma offesa e umiliata era una forza scatenata della natura un cerchio di agenti armati la chiuse mani in alto disgraziata e che giò anche uno sparo di avvertimento la mia bambina volete ammazzare anche lei la gilda gridò lasciatemi passare avanzò in perterrita lei non li aveva neppure toccati sei agenti in un mazzo crollarono a terra così raggiunse la sua casa era un gran casamento fra i prati della periferia la forza pubblica si schierò tutti intorno il questore avanzò con un megafono elettrico a tutti gli inquilini della casa si concedevano cinque minuti per sgomberare e alla mamma scatenata si intimava di consegnare la bambina a scanso di guai la gilda si affacciò ad una finestra dell'ultimo piano e gridò parole che non si capivano le schiere degli agenti di colpo arretrarono come se una massa invisibile premesse contro di loro cosa fate serrate le file tuonarono gli ufficiali ma anche gli ufficiali retrocedettero incespicando nel casamento ormai non restava che la gilda con la bambina probabilmente stava preparando la cena perché da un camino usciva un sottile filo di fumo intorno alla casa i reparti del settimo reggimento corazzato formavano un ampio anello mentre scendeva la sera la gilda si affacciò alla finestra e gridò qualche cosa un carro armato pesante cominciò a sobbalzare poi si rovesciò di schianto un secondo un terzo un quarto una forza misteriosa li sballottava qua e là come giocattoli di latta finché restavano immobili nelle più strane positure completamente sconquassati fu decretato lo stato d'assedio intervennero le forze dell'onu la zona circostante della città fu evacuata per ampio raggio all'alba cominciò il bombardamento affacciate ad un balcone la gilda e la bambina assistevano tranquille allo spettacolo non si sa come nessuna delle granate riusciva a raggiungere la casa esplodevano tutte a mezz'aria tre quattrocento metri prima poi la gilda rientrò perché antonella spaventata dal tuono delle esplosioni si era messa a piangere l'avrebbero presa con la fame e con la sete la conduttura dell'acqua fu tagliata ma ogni mattina e ogni sera il camino emetteva il suo fiato di fumo segno che la gilda stava cucinando i generalissimi decisero l'attacco all'ora x all'ora x la terra per chilometri intorno tremò le macchine da guerra avanzando concentriche con un rombo da apocalisse la gilda ancora si affacciò basta gridava lasciatemi in pace lo schieramento dei carri armati ondeggiò quasi investito da un'onda invisibile i pachidermi d'acciaio carichi di morte si contorsero fra orrendi scricchioli trasformandosi in mucchietti di ferraglia il segretario generale dell'onu avanzò tenendo alta una bandierina bianca la gilda gli fece segno di entrare il segretario dell'onu chiese alla cameriera le condizioni per la pace il paese era ormai spossato i nervi della popolazione e delle forze armate non reggevano più la gilda gli offrì una tazza di caffè poi disse voglio un uovo per la mia bambina dieci camion si fermarono dinnanzi alla casa ne furono scaricate uova di ogni dimensione di fantastica bellezza affinché la bambina potesse scegliere ce n'era perfino uno d'oro massiccio tempestato di pietre preziose del diametro di 35 centimetri l'antonella ne scelse uno piccolo di cartone colorato uguale a quello che la cornessa le aveva portato via